Sì, gli italiani migliori il fanno. Sì, gli italiani migliori. 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 Buongiori. 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 Qual è l'edificio? Gli italiani migliori. Gli italiani migliori fanno. Gli italiani migliori. 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 Sire? I feel a bit strengthened now. Sire! 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 Commandement Ready Yes Ready 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 No, no, no. No, no, no. Grazie per aver pagato il riscatto. Sì, gli italiani migliori il fanno. Sire? Sì, gli italiani migliori. Sire? 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 Il giornato a Caiba Ove mi recco? Ove mi reccozzi 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 Il giornato a Caiba Ove mi reccozzi